Perché si può fare qualunque legge, ma se viene interpretata in maniera disonesta e distorta qualunque legge sarà inutile, qualunque provvedimento normativo sarà vano. Quindi noi sicuramente vinceremo le elezioni europee, però è importante, è importantissimo che voi sappiate che vincere senza cambiare è inutile, noi dobbiamo cambiare dall'interno, non dobbiamo aspettare che qualcuno faccia qualcosa per noi, ognuno di noi porta dentro di sé un'azione che può fare dalla mattina fino alla sera per migliorare la propria vita e quella degli altri e quella dei propri figli e noi dobbiamo assolutamente intraprendere quell'azione, non possiamo come se stessimo sulla sedia a rotelle, immobilizzati, aspettare che quell'azione che possiamo fare noi provenga da qualcun altro. Questa è una cosa fondamentale. Votare il Movimento 5 Stelle, lavarsene le mani, stare lì con le braccia concerti a guardare quello che accade, come appunto facciamo con la televisione, è inutile. Non lo fate. Grazie. Grazie.